musica 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 e ciao ci sono qui oggi siamo qui sul nostro GTA ho visto che il secondo glitch per fare il completo vi è piaciuto molto grazie siamo a 50 iscritti farò un give di macchine a tutti quelli che si iscrivono e poi accendo ne farò un altro oggi siamo qui per far vedere poi farò il video appunto per farvi vedere le mie macchine siamo qui per far vedere come passare maschere cappelli caschi su altri completi che voi volevate vedere e che quindi vi andrò a far vedere allora prendiamo ad esempio ragazzi non so voglio passare questo dell'aliena voi di che team siete scrivetelo nei commenti a questo ad un altro completo ad esempio lo voglio passare quello dell'aliena lo voglio passare sotto a questo allora voi venite qua quindi venite o in questo punto della spiaggia qui dove c'è l'LTS e l'altro LTS oppure andate in una qualsiasi casa che sarebbe nell'eclipse quelle basse no quindi devono essere tipo ATG o l'altro io vi consiglio qui venite qui ragazzi voi iniziate da questo punto qui preciso e iniziate a correre così appena venete qua lo spammate freccetta destra se andate oltre vedete o vi farà entrare nel telescopio oppure può succedere anche che vi glitchate come è successo a me in questo momento e quindi dovete fare per forza trovo una nuova sessione ok raga colgo l'occasione ragazzi per farvi vedere anche che praticamente questo oddio è il mio yacht bellissimo yacht in questa sessione ci sono tutti yachts o tutti ricchi vabbè comunque vi sto per far vedere come dovete fare se succede quello se succede quello come vi ho già detto trovate una nuova sessione io ve l'avrò tagliato poi rivenite qui andate piano e fate di nuovo per usare il telescopio magari lo potete fare anche dall'altro lato se vedete e prima o poi succederà questo vedete raga non vi si apre la schermata attenzione non vi si apre la schermata per entrare nel telescopio se vi si apre uscite lo riprovate prima o poi si fermerà così il personaggio voi andate qui cambiate completo mettete ad esempio non so sub voi poi camminate un po' correte e vi si metterà la maschera che può essere anche un casco però mi sembra che i cappelli ci vuole l'altro i caschi non lo so provate voi e me lo dite nei commenti si può fare questo oggi uscirà anche un altro video di GTA più domani un altro quindi raga vi ricordo di iscrivervi e lasciare un bel like se questi video glitch vi piacciono come sto notando perché stiamo facendo un bordello di views con questi video non so cosa stradirvi dal vostro copro di fiducia tutto